La zona promessa è la zona promessa, quella di Arrigo Sacchi. I paracadutisti del Milan sono scesi sull'Olimpico per conquistare punti che teoricamente possono rivelarsi da scudetto. In campo non c'è Ancerotti, ma in giro c'è chi vorrebbe scoprire la formula magica trovata dal calcio per scongiurare gli scioperi. Manfredonia è in panchina. La Roma gioca, forse per motivi freudiani, la partita che dovrebbe fare il Milan, cioè va all'attacco. Non è una giornata di gloria per le difese, ma neppure per l'attacco della squadra giallorossa cui Conti cerca di dar brio. Affonda più pericolosamente il Milan. Virdis ha già segnato a 12 gol alla Roma e perché non tentare il 13? Del resto, con la Juventus in vantaggio sul Napoli, l'occasione è ghiotta. Ed eccolo là, Virdis, la B2E. La Roma crea occasioni da gol, ma non sa approfittarne. La difesa più forte del campionato balla un po', ma i giallorossi tremano al momento di concludere. Molti tifosi mogugnano per le titubanze difensive della Roma. Davanti, Fell lotta vanamente. Alla ripresa si vede Manfredonia, ma il disco continua a suonare la solita canzone. I sogni sono desideri. Il giallorosso viene consolato, o forse incoraggiato, a continuare così da Giovanni Galdi. A Policano sembra che sia arrivata la stagione balneare. Gli piacciono i tuffi e Pairetto, che di Torino, dove non ci sono che fiumi, non approva. Anche quando Policano non si butta giù dal trampolino, il risultato è zero. Insomma, alla Roma non ne va bene una. Virdis potrebbe raddoppiare, per la verità. Traversa. Ma guardate Giannini. Distorsione al ginocchio. Per fortuna, non grave. Ormai, alla Roma manca anche il cervello. Con Pruzzo non succede quasi nulla. La Roma resta a secco ed il finale è tutto del Milan, che con Massaro, subentrato a Donadoni, potrebbe anche raddoppiare. Poi ci riesce davvero, con la difesa giallorossa pressoché sguarnita, e la partita finisce praticamente qui. Se i rossoneri avessero segnato anche il terzo gol, sarebbe stata offesa al pudore. Manfredonia parla del periodaccio giallorosso. Purtroppo è un periodo in cui sbagliamo diversi gol e ne subiamo alcuni così, in maniera un po' rogambolesca. Il mister ha fatto le sue scelte. Domenica siamo calati un po' fisicamente. Ha cambiato qualcosina, perché l'allenatore è giusto che cambi quando vede che le cose vanno male. Però purtroppo non siamo riusciti a risolvere la situazione. Pietro Paolo Virdis, gol il mercoledì, gol la domenica. E gol soprattutto alla Roma, perché mi sembra che ne ha fatti già tredici. Sì, stranamente con la Roma le cose vanno sempre bene. Ce l'ha con i ministeri? No, no, non si è mai detto. Senta, realisticamente, lo scudetto, ci pensate davvero? Ci abbiamo sempre pensato. Mi ha lottato fino adesso, anche quando eravamo con più punti, appunto a quattro punti. Adesso che siamo a due ci crediamo ancora di più. Volete andare lì a sbancare Napoli? Ma chi lo sa. Noi speravamo di arrivare con due punti di distacco. Adesso ce li abbiamo. Adesso domenica abbiamo una partita molto dura. L'Inter sta andando molto bene. Quindi il derby per noi non è che sia una partita già vinta. Questi punti di distacco che ci sono, sono dovuti al petardo nostro e alla rondella loro. Percentuali di possibilità, così se ne vuol fare. Direi che adesso sono salite le nostre. Penso che siamo a 60 e 40 adesso. 60 e Napoli? Napoli, 40. Cioè, hanno sempre due punti di vantaggio, giocano in casa la partita con noi. Rud Gullit, mi sembra una vittoria in un momento importantissimo del campionato, col Napoli che perde e il Milan che ha due punti. Sì, è una bella giornata per noi. Non solo a tempo, ma anche a partita. Tu sei sempre ottimista, ci credi in questo scudetto? Sì, sempre.